Lunedì mattina i finanzieri del Comando Provinciale di Pesaro e i carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro hanno dato esecuzione a un'ordinanza applicativa della misura cautelare personale nei confronti di tre persone titolari e gestori di una rete di distributori di carburante e al sequestro di quattro impianti stradali, tutti nelle marche, per un valore stimato di oltre 2 milioni di euro. L'operazione, denominata Mandafoto, è stata avviata nel 2023 con i controlli a un distributore rientrante nella categoria delle cosiddette no logo, cioè senza marchio e non appartenenti alle grandi compagnie petrolifere. Durante le verifiche sono state accertate un lavoratore in nero e palesi condizioni di sfruttamento nei confronti di alcuni dipendenti. Le indagini hanno poi permesso di risalire ai responsabili dei reati di caporalato, estorsioni e truffa e degli illeciti penali in materia di immigrazione e di lavoro individuati negli amministratori di un gruppo societario campano. Alcuni dipendenti erano indotti, anche sotto minaccia, a svolgere turni massacranti di lavoro, erano sottopagati e costretti a vivere in sgabuzzini interni ai distributori in precare condizioni igienico-sanitarie. Inoltre non gli era consentito di fruire di pause, giorni festivi, permessi e ferie. Accadeva anche che l'attore inviasse un messaggio WhatsApp con scritto «Manda foto» e se il dipendente non era sul posto di lavoro rischiava la sospensione dello stipendio, addirittura licenziamento e minacce di morte. In più occasioni sono state intercettate conversazioni dove gli indagati davano indicazioni al personale sulle procedure da seguire per manomettere la corretta funzionalità degli impianti di erogazione. Ad esempio, i filtri troppo sporchi o intasati non dovevano essere sostituiti ma forati e se il carburante messo in alcune cisterne non era buono, bastava miscelarlo con un'altra tipologia di carburante. Tutto ciò provocava la scarsa qualità del prodotto, capace di procurare danni irreversibili al motore con ricaduta economica agli utenti ignari. Gli inquirenti hanno eseguito numerose perquisizioni nei luoghi di residenza o demora degli indagati e nel domicilio fiscale o nella sede legale delle società coinvolte, in particolare nei comuni di Pesaro, Terre Roveresche, Caserta, Milano e Sperlonga in provincia di Latina. Due degli arrestati sono finiti in carcere mentre uno ai domiciliari.